. Belen Rodriguez ricoperta di crema pasticcera, una pioggia di like su Instagram Belen Rodriguez ha abituato molto bene i fan alla sua bellezza ma questa volta, non c'è dubbio, si è davvero superata. E proprio lasciò girlargentina pubblicare sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae ricoperta di crema pasticcera. . La foto è stata postata nella serata di sabato 4 novembre proprio durante la puntata di Tussi Q e Vales che la Showgirl conduce insieme a Martin Castrogiovanni. Ad accompagnare lo scatto, che non è un selfie e considerato che Belen ha gli occhi chiusi, la didascalia vi anticipo solo questo. Noi avevamo chiesto durante la pausa di portarci il dolce. . Tanti commenti scritti dai fan alla foto tra cui sempre meravigliosa, sei super dolcissima e ancora bellissima, sei veramente divertente. . . .